ciao a tutti ragazzi sono qui per aprire la casella successiva allora io abbiamo aperto insieme la casella numero 19 e oggi insieme a voi apriremo la casella numero 20 oggi 20 dicembre 2023 ci stiamo avvicinando ci stiamo avvicinando ancora altre quattro caselle oggi apriamo la casella numero 20 e vediamo che cosa c'è nel suo interno vediamo un po grazie Grazie. Grazie. Allora, eccolo qua. Giorno numero 20. Allora, si tratta di questo cagnolino, di questo cagnolino con il latte e i biscotti. Con questo tavolo qua che c'è il latte e i biscotti. Vedete? Questo cagnolino. Vedete? Nell'altro è uscito il gattino. Questo qua è uscito il cagnolino. Che è in Cihuahua. E c'è anche quest'altro pezzo qua. Non so che cosa si... E c'è anche la scodella. E c'è anche la scodella per il cibo e per l'acqua. Vedete? Bene, questo è tutto. Noi ci vediamo domani con l'apertura della casella numero 21. Ciao a tutti. A prossimo video.